Ecco, mi sono in compagnia di Elena Sala che ha acquistato tramite il mio studio un appartamento in Merate. Quindi chiedo a lei come si è trovata con il servizio offerto da Elena Rughetto Compravendite Immobiliari. Elena Rughetto è una garanzia per me perché la conosco da diverso tempo anche perché tanto che cerchiamo questa casa a Merate e siamo riusciti a trovarla grazie alla sua consulenza e professionalità. L'esigenza di Elena era non solo di trovare una casa per lei e per le figlie ma anche di trovare la possibilità di un acquisto che fosse garantito per lei e anche le sue ragazze. Quindi abbiamo trovato insieme una formula di usufrutto e inuda proprietà. Con questa scelta però non abbiamo voluto precludere alle due ragazze la possibilità domani di potersi comprare un'altra prima casa. Quindi abbiamo fatto uno studio insieme e devo dire che siamo arrivati al lato notarile, è andato tutto bene e quindi io sono molto contenta per Elena che è riuscita finalmente ad acquistare la sua casa con le sue due bellissime ragazze. Ringrazio Elena perché proprio ci ha guidato in questo percorso, mi sono affidata completamente i suoi consigli perché davvero è una professionista seria e consiglio veramente a chi deve acquistare una casa di rivolgersi a lei perché è proprio competente su tutti i fronti. Grazie Elena. Grazie a te. È un viaggio che abbiamo fatto insieme perché sono tante le cose sicuramente da seguire quindi mi piace stare vicino ai miei clienti per poterli accompagnare. Infatti l'ho battezzata la mia bussola che ci ha proprio guidato veramente con tranquillità ad affrontare un passo così importante. Grazie Elena. Grazie Elena anche a te, due Elena. Grazie. Arrivederci, buona giornata. Ciao, ciao.